bella questa ma dai ma non si fanno sti scherzi prima di cominciare volevamo consigliarvi un canale su youtube sempre di un game player il canale in questione si chiama Easy Gamer 1989 fa dei gameplay su videogiochi retro di qualche anno fa tipo Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 e cose di questo tipo io l'ho visto varie volte in vari video è molto divertente e anche lui è molto simpatico, è un ragazzo molto in gamba però questo canale ve lo consigliavo appunto per i suoi giochi per chi ama i videogiochi di una volta è un bel canale vero assistente? yep ciao a tutti ragazzi siamo tornati tu mi metti sempre nelle condizioni di giocare dei giochi che io non conosco ma perchè un giorno non ci facciamo un Call of Duty, non ci facciamo un Resident Evil no io non fanno l'ora il ragazzo sveglio guarda quello che ti stai per fare vedere non sei impadrato dalla telecamera vieni un po' qui qua sai io sono il tecnico tecnico di montaggio video allora tu guarda quello che stai per vedere tu guarda quello che stai per vedere tu guarda quello che stai per vedere dovevamo partire dalla prima ah va bene anche da qua? ok tu guarda questo tu guarda questo tu guardi e vedi la cosa più bella che me la mi sa eeeh eeeh e modo la gambe aperta risciata risciata che bruciore alle gambe se fosse solito sarebbe sbudellato la parte ti piace? eeeh non vedo niente ecco il pavimento pesca ma mi sono l'ambo sei messo la mia faccia? l'altro sono risciata 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 posso provare io dopo? risciata 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 adiieh eeeh vacca risciata No, mi sembra in mezzo a lato. La moto, la moto, la moto. Bella la moto. Direi che è la polizia. Non sono abbatito molto bene. Com'è andata? Molto male. A tutto caso. Il tuo babbapizza. Bella madonna. Era così giovane. Addio macchinina. Andiamo su Saturno. Andiamo su Saturno. Siamo qui. Stiamo volando. Siamo qua. Andiamo. Andiamo. E' andato a finire a fare compagnia il motore. bella posizione se fanno la scuoleggia la schiacciano volare ma di sicuro ti piacerà c'è il muro c'è il muro non sono sicuro però si ma sicuro ma sicuro ma sicuro la hai evitato che la meni alla susurra questa è massima e questo è più specchio qua guarda dove troviamo un bel consiglio mission impossible no che brutta morti mission impossible sul parabrezza e brutta morti e questo è un posto migliore vero? del mio guarda guarda quanto bello quanto bello ho tutta paura posso provare io? guarda come hai messo super eroso morti è molto veloce è molto veloce è molto veloce è molto veloce vai 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 fai vedere chi sei over the top 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 adesso ce la faccio è molto veloce è molto veloce è molto veloce oh ma ne prendesse una dritta è stato scaricato è la che va andrà solo e disperta solo l'idea di andare in giro così è ha funzionato il pulmino no tolto la macchina quelle quelle al giro tutto cioè no 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 c'entrato è uscito è morti una giostra come il tagadà andiamo a lavorare con una brutta impressione salutami con il giro della morte è però bellino eh è andata bene che non ti ha beccato il cane? no 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 adesso un mega salato poi chiudiamo questo è il salto di chiusura è il salto più bello del mondo andiamo contro la pioca cosa succede? aken Ghostbomb no ahahahahahahahahahahahahahaa Reddit i saluti non sono graditi in questa maniera questa volta lo possiamo fare bene io la saluto è stato un piacere averla qui a giocare con noi anche alfredo grazie che sennò non posso cliccare chi sarebbe alfredo scusa chi è un serpente ciao ciao ok il mio assistente è andato io vi saluto al prossimo video e alla prossima grazie per la compagnia ciao allora sei tornato Un saluto da parte di Panic Gamers Alla prossima puntata Un saluto anche da Alfredo Ciao ciao Mi ha spondato l'orecchio